Oddio hai finito. E adesso girati. Oddio. Ciao Oddio. Ciao Oddio. Che voce hai? E' una voce un po' strana oggi sai Enzo. E' una voce strana ma non essere così tranquilla. Ma si riprende anche la mia voce? Certo si sente anche la tua voce. Primo piano sorridi. Adesso riprendo Anna. No 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 non mi piace fammi riprendere. No vabbè dai devi cominciare a farmi. E' quella che usiamo l'ultimo dell'anno. E' quella che usiamo l'ultimo dell'anno. Com'è l'ultimo dell'anno? Quella cassetta lì è quella che usiamo l'ultimo dell'anno. Sì. Ho capito? No non è quella che usiamo l'ultimo dell'anno. Ah è una cassetta così. Salve dunque sono un quarto alle nove del trent... no oggi è 29. 29 dicembre. Sì. Sono un po' costipata. Sì e anche un po' i disabiliè come vedo. Sì sulla giacca del pigiama. Sulla giacca del pigiama. Sulla giacca perché per il resto sono pure le scarpe e i pantaloni. Eh infatti. Ho avuto un piatta tent con il dottore del soggiorno. Brava brava. Una cosa stupenda però. Sì lo aspettavo a questo momento. Ah sì? Hai finito di riprendermi. No non ti ho ancora finito. Per ti imparazzo. Che bello. Dai pianta. Adesso è un mega prima piano. Profilo. Eh non lo faccio io. Ma quanti buchi hai? Ma quanti buchi hai? Ma quanto costi? Eh dai basta però adesso è un mega piano. Comunque visto questo è il... La possiamo vedere adesso sul video con un attimo. Siamo a Salice D'Urzio nella casa di Laura Cametti. Questa è la stanza da letto. E' esattamente il 30 dicembre 1990. Siamo io, Anna, Laura, Emanuele, Biscardo e Andrea e l'altro che non mi ricordo come si chiama. Bene, adesso ve li faccio conoscere. Ecco, forse non riuscirete a vedere bene. Comunque adesso ecco a voi. Anna in questo momento. Anna, Andrea. Ecco Anna che si copre. Emanuele. Emanuele che si sta bevendo la birra. Ed ecco, ecco a voi, Laura che si fuma la sigaretta. Biscardo, Biscardo, facci, faccio l'imitazione. Biscardo, Biscardo. Un momento che c'è la scuola, scusate, c'è la spumica che esce dalla botta. La spumica. Ed ecco, benvenuti a questa ennesima edizione del processo dell'unitore. Biscardo, un attimo, un attimo che vorrei inquadrare un attimino là sopra. Cosa abbiamo qua sopra? Ecco, cosa abbiamo qua sopra? Se mi seguo un attimo, se no riprende al buio ci sono un po'. Riprende anche al buio, puoi anche uscire un attimo. La posso accompagnare? Prego. Siamo sul balcone della casa di là. Qua ci sono un po' di buttiche. Un po' di buttiche. Ecco. Qua c'è un po' di cordon rouge, tutto abbiamo. Abbiamo buio, perfetto. Possiamo rientrare una panoramica. Fa sempre la panoramica del riprende qua in alto un attimo. Una bella quota, mi fa una ripresa in primo piano. Bellissimo, bellissimo. Ecco qua, Giscardi in diretta da South. Bellissimo. Adesso rientriamo. Abbiamo di nuovo Emanuele, Anna, tutti quanti abbastanza ben amalgamati. Buon anno, buon anno. Siamo al 30 dicembre. Siamo al 30 dicembre e siamo già sversi al 30 dicembre. Pris per l'apertura delle frontiere. No, il 29, il 30 dicembre. Il 29 dicembre. Il 29 dicembre. Stai, Valuele, Manuele. Manuele, stai che primo piano. Apri la bocca, fammi vedere l'idea. Tu sai? Ciao, ciao. Ciao cari. Auguri. Grazie a tutti. Non ci cambiamo. Mi metto l'alto, adesso andiamo nella neve. Se tu mi guardi mi sento un re. Se sono il cuore, tu è sull'amore. Brilla il cielo, lampi di fuoco. Oh yeah ragazzi, 30 dicembre 1990. Ci troviamo qua a casa di Laura Cometi di Salsi d'Ulse. Vai così. E siamo già fuori il 30. Pensate al 31 ragazzi. Pensate al 31. Il 30 dicembre 1990, a quest'anno che se ne sta per andare ragazzi. Vai così. Ah yeah che bello. Oh yeah. Oh yeah. Signori e signori, buonasera. Siamo questo che tossisce, Biscardo, che è... Vabbè comunque, siamo nella stanza da letto della casa di Salice d'Ulseo. Ah, da Laura. E comunque adesso incominciamo. Ecco, quella che è lì è Anna che sta cercando di coprirsi, ma noi effettivamente siamo scienza. L'altro in fondo è Stidu, Stidu con la faccia, ecco che è riuscito, ecco, Stidu è riuscito. Ecco, Biscardo, 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 Biscardo. E poi qua c'è Emanuele. Pace bene, pace bene. Guardate come è conciato, poverello. Tutta la notte senza letto, poverello. Posso dire una cosa, poverello. Scusa, ti dico una cosa in diretta. Un'amere. Enzo, un'amere. Questa è cercare di riuscire a levare le coperte, non c'è faccio. Appettato, vai, atti. Buonasera. Schifosi. Schifosi. Good morning in Vietnam. Good morning in Vietnam. Good morning. La Pantera Rosa. Gotta, God, 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 God. Sì, hai presente il video di Luca Carboni quando fa? Grazie. Grazie a tutti. Che ho fatto, a chi non mi è piacere. La Pantera Rosa, la pancina. La pancina, la pancina, la pancina, la pancina. La pancina, la pancina, la pancina. La pancina, la pancina, la pancina. Guardate, c'è il supermercino. Guardate, c'è il supermercino. Guardate, c'è il supermercino. E' qualcosa che ci sono. e perchè quando ti chiedi mi chiedi stindu questo è il porto di Biscato, Biscato, questo è il porto di Scindu che c'è te, per tua facca ue dammila uno, dammila uno, dammila uno, dammila uno, dammila uno dammila uno, perché questo l'ho inventato io, pure questo l'ho inventato io ecco Stindu e lui vide la luce la luce io ho visto la luce la montagna guardate che bella c'è una nuvola lunga e pianta ti prego dai tirai giù la coperta c'è proprio un bicchiato con la buona o la cattiva hai visto la nuvola che c'è? no non c'è è la faccia sconvolta di prima mattina è troppo bella hai visto cosa? c'è una nuvola c'è una nuvola c'è una nuvola dai 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 siamo nel ritiro della lazio dai 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 cazzo poi lo spengo dai dai facciamo vai facciamo una cosa una cosa una una vabbè dai io ti inquadro solo in mezzo ti inquadro solo qua la faccia no che la partita a faccia a faccia a faccia guarda il biscardo il biscardo laura ti vedo stravolta laura Anna ti vedo stravolta Anna ci mi per letto vorrei vedere ho troppo cazzo che ho visto di fare una foto ma avete finito voi di fare casino con cui dai basta foto facciamo questa foto ma hai una foto con il 24 ma hai una foto ma hai una foto ai piedi di stile è reale i piedi prezile si è reale potete osservare il piede prezile no non è affatto e quindi mi riesco a connettere il movimento orizzontale con quello so troppo fatto hai fatto la squadra spadami spadami basta mettiti via lo strumento lano è l'intruder accendi mi accendi know e sente un Erbi un'e' arrivate con la moto cieca ahahahah ... ma vedi che non capisci proprio minimamente le affermazioni degli altri quando sono ubriaco quando non capisci niente erpa all'entrata in curva fare no la barba sagro c'era scritto sul giornale finchia per caduta e giro a me e giro a me e dai lu mila i pilin misureremo e se voi l'avete più lungo del nostro dettagliare un pezzo da vostro per attaccare il nostro per averlo più lungo del vostro ahhh nel quarto misterio glorioso si contempla Santa Teresa che con la figa presa illuminava Londra ahhh e si le verai e si le verai e si per la pelle mila i lu mila i lu misureremo e se voi l'avete più lungo del nostro noi taglieremo un pezzo dal vostro per attaccare il nostro per averlo più lungo del vostro ahhh nel quinto misterio glorioso si contempla ritorno la fatta non me lo faccio e mi è la cosa che mangiava tu padre che caca le scatole di concentraria è nata nuova di game ma tu and'altro per l'ho attaccato tardi Perciò scorsiamoci l'Amen, dai. Amen! Esci le braie! Esci per la pelle! Esci per la pelle! Mirai lupi! Mirai lupi! Mirai lupi! Mirai lupi! Mi giureremo! Vesci quando avete più lungo del nostro e togliere un pezzo da vostro per attaccare la nostra paramano più lungo del vostro! Amen! Non me ne ricordo più volte comunque si tratta però con un cuore in 4-4-8 Il bucuto a quadretto Eh? Il bucuto a quadretto si compiù solo con un cuore! Geremia! No, più che Geremia! Togli gli occhiali! E' Geremia! E' Totò! E' Totò! Togli gli occhiali! E' Totò! E' Totò! Faccio gli occhi! Perchè? E' quasi il gogo! Il gogo di Notre Dame! Si è vero! Robbo! Isaia! Isaia! Dammi la gogo! Isaia! Stai Isaia! Stai Isaia! Stai Isaia! Stai! Isaia! C'è una bella scoperta! Non perdirla! Non c'è tutta in presa la nata! Non tagliare! Non tagliare! Non tagliare! Stai alla scoperta! Stai alla scoperta! Stai! Metti in buca! Metti! Comunque siamo fuori gioco! Brossi! Si è vero! Addosso! Hai messo un verso! Hai messo un verso! In verità, in verità, vi dico! Prendete e mangiate! Prendete e bevete! Spegni la baletta lì! Beh io vado! Scusate! Voi al cesso! Guardi! Che figata! Musica! Fartare! Giu-vi-vi-vi-vi! Fartare! We're ready! Che figata! E rvi-vi-vi Metti! Sì, non è molto più No, no! Brava! Sì, non è molto più un u.s. back in the u.s. back in the u.s. ssr Vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Vai, 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 vai! Vieni, vieni... Opetta cypia! dilicione dai... non è stoppata un cazzo signori ci ritroviamo di nuovo non siamo ancora a mezzanotte però siamo già esattamente alle 17.07 del 31 ritroviamo In Mbosca, in Mbosca, in Mbosca, in Mbosca, in Mbosca. Fall in the U.S.A. Fall in the U.S.A. Fall in Mbosca. Fall in the U.S.A. Apri e facciamo la panorama. Per vedere i morti, i morti. A destra e in fuori. Enzo, in questo in quale inquadra i morti. il catastro, il catastro delle birre, guardate il catastro delle birre, di chi è? Martini, abbiamo qua anche Contour Rouge, ancora birre, scusa, Contour Rouge, guardare per credere, guardare per credere, e sono solamente le 17 e 11 minuti e siamo già fusi, vai! No, 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 in questo momento stiamo aspettando, come al solito vediamo sempre Emanuele che beve con un maiale, stiamo aspettando qua Federica e Alberto che stanno per entrare, comunque siamo quasi al completo, ci rimane ancora Tommaso e poi siamo al completo, comunque lui è Lordo, guarda che faccia! Troppo fuori, troppo! Sono le 17, le 5 e ancora non è arrivato mezzanotte, siamo già lordi ragazzi, siamo già lordi, guardate Maurizio, guardatelo, guardate Stintu, Stintu dov'è? Vai, dov'è ragazzi, apri sta porta, inquadra, inquadra, apri la porta, dai, stanno arrivando, Ecco voi Alberto e Federica, Alberto eccolo lì, è Federica, Alberto che si sta pulendo i piedi come rituale, ecco Alberto, voi Alberto, sì, Federica eccola qua, ciao Federica, ciao come va? Bene, stai Federica, Federica stai, stai Federica, chiudi la porta, chiudi la porta, c'è più nessuno, vai, 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 che siamo fusi, vai, oddio, va anche così, oddio, che cazio, che botta, sempre qua, un saluto romano hai, ai che male, ed ecco a me che mi faccio una ripresa, ciao bello, quanto sei bello, sei bello, eh, eh, sta contando da 1 a 10, 1 a 10, sottototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot Grazie a tutti.